buon ciao raga benvenuti direttamente da caserta per questo sboosting qua al tempio di cronos in via ciao massimo ciao luca siamo in via santa croce a caserta sanicola sanicola la strada caserta tempio di cronos bellissimo andiamo a sbussare due box giappo per chi sa fratelli guerri la guerra dei fratelli non ci ha portato soddisfazione per i teferi mi hanno detto viene a caserta che si sbusta nei feri e vediamo se il tempio di cronos dalla parola teferi il press walker del tempo e lui che fa tutto il casino manipolazione del tempo è l'unica fa tutto il casino qua dentro ok e poi pure la gara tra voi due vediamo che sbusta chi sbusta più forte tutto giappo bellissima buccia del giappo anche che siete dai giapponesi no col fatto che si possono appendere vediamo vediamo bellissima la terra l'isla fortissimo nel fuoco da mano spacca artefatto dall'altra parte una crescita gigante che manca bene nuova ancora dei poveri un miscira un miscira raro o figa il merfolk di nemesis quello che cerca quello cerchi ribelli o cerchi i merfolk ah i merfolk ok erano quelle spazio pure con i ribelli nemesis mercati poco ok pietra magica è forte quello terra dove so dove hai visto il file ok miticozza che questa è ancora non la stanno valutando è bella solo perché i segnalini li può spostare figo come un'altra porta si bella con la comunque questa espansione con gli artefatti un'altra mitica brutta si è bello cos'è ilfo lo amo forte perché tappa pure gli artefatti un commander qui che c'è scritto che c'è scritto isola ok non acqua qua 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 vede il blu vede il blu trasforma che brutta cosa che faccio gioco un bel counter poi il da giocatore contro carta figa ha un copio artefatto cosa giocare lega si sarà no cosa non si giocare me nei draft no la forte in questo draft è forte però è 43 e giusto proprio a 5 3 se comunque il 3 di difesa era proprio brutto e poi faceci all dread 4 o 5 bello è questa è una carta grossa si questa è la carta grossa all'epoca bella questa è grossa questa è grossa questa è aumentata fa il giappone la del sud end bomb tre danni e la painland una bella meglio anche il pugiglione fa pagare uno in più a tutte le magie tutte le magie non creatura come c'è scritto una bolletta old school e gea è quello spacco permanente è il comando di gea dobbè essere sei male fa un sacco di cose brutte bianca e belli encounter mille prototipi festivali che fighissima se non mandano ma di misto o grosso messo il più più grosso messo bello perché visce la scusate usa ma chi è lei il titano mamma mia che bello ti danno che non l'avevo visto in questa versione che figo questa è questa è quella del comando queste forte questo si giocare mazzetto controllo combo installa otto vada poi guarda la prima carta del tuo primordio e puoi giocare e poi giocare una volta a turno che mi serve gratis dalla maluna qualsiasi carta sia dalla cima che dalla mano e si giocano i ciccioni guarda questo questo è un box grosso però io da qui mi fido da massimino il teferi e sempre il teferi prego portate una mano così va vai c'è no ma chi cazzo a sto teferi forza questi sui totteri del mio poveri se du hai bare oh boh 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 mi ce la fiò il mo beh quello dovrebbero vedere altro lapo bellissima questo è la cosa brutta che di avere tuttие fox bello o no sennò è inutile ma fanno di più se le hai tutte e due file più uno più uno mamma mia tanta roba tu niente vuoto hai sbagliato il gioco questo è fortissimo questo è fortissimo quello è un buone peschi ma forti e costumare a nero per cui vaggiare ma questo questo il pezzo si dicono clasta dicono classo pienissima via comunque si grossi bellissimo bellissimo ho fatto bene per crescendo fit come se vuoi cammita crescendo fit su due box tanta roba qua ci sente bene guarda non si apre guarda guarda non si apre al contrario poco poi metti che vediamo che ci esce siamo curiosi però quando era di top L'almatura è tipo scopallido, tanta roba, l'almatura è tipo scopallido. Il processore, siamo tutti a multi, le abbiamo trovato tutte e tre per ora. Ma quella non è quella che giravi tu, ah tu c'è la leggea, vero figa, bellissimo. A che turno non la giravi, al terzo? No, dipende. Ok. Commander? Pregio, l'altra, no no no, modern. Ah modern, figo. Pregio, con le altre titani. C'è? Ah quel verde c'è rovinato tutto. Ce l'avevamo quasi fatte nel scenario. È blu. Oh, che cos'è? Ah mamma mia. Che brutto. Guarda che lì sta facendo tutte le carte. Questo è bello. Questo è incantissimo che dice, ah figo. Peschi neri. Dice che l'avversario per l'angelo a magia, ho scartacarto per 15 punti di vita. Questo è già in comanda. Ma non era in comanda. Che brutto. Che cattivo. Bello scagliare appato. Ti stai divertendo. Lui l'ha detto, l'ha detto all'inizio Luca. Io sbusto. Fatemi sbustare, sono il mio. Questo teferi continua a non uscire. Oh bello. Questo teferi continua a non uscire. Bello che sta in comando. Come ti distorce il linguismo? Comunque sta succedendo tutto, però veramente questo teferi continua a non uscire. Mi hai messo troppo presto. Ho scelto il linguo? Non gli ho detto niente. Wow, questa è mia. Ancora. Seconda. Seconda. Incredibile. Ma su teferi, guarda lo sto. No. Ci ha fatto un'altra musica. Oh bello che devo prendere con i pelese. Ce le ho gli altri due, se vuoi. Fui. Un'altra è uscita. Un'altra è uscita. Un'altra è uscita. Ci sono cinquantanone comuni e poi due. Un'altra è uscita. Un'altra è uscita. Sì, no, è a caso proprio. E a caso. E guarda qua. Tre rari, tre comuni, cinquantanone comuni. Sì. E poi è bello che si uscita. E poi è bello che fa uscita. Tipo tre rari, due litiche, due foil. Di tutto. Veramente a caso. Terra foil, poi alla fine. eccolo che era poi no bello però già io a poi il bello bellissimo si non si notava che era poi lo sarà l'inizio giaia e quindi questi sono i tuoi nero vero che vedete ah sì questo è old school che devo scurre lo spara fuoco un altro ricordo il paladino a questo paladino questo è un bel comandante con cattivo col comandante ma non è bro che sono asili guarda i fratelli tanto posti paladino ma non sono pieni sti posto il giapponese per poco per poco è vero un box è finito e te feri gennaro non l'ha sbussato ci siamo trovati siamo trovando riuscito ci stiamo trovando questo è già uscito tre volte no si no no forse è blu è blu è proof oil aspetta aspetta è troppo blu mannaggia è troppo blu si tutte le mitiche del mondo però c'erano tutti sul market giuro stai feri non la trovi puoi cercare tutte le mitiche di questa espansione qualsiasi versione giuro perché ovviamente non trovando te feri trovi tutto il resto è la penna questa è la blazza la stessa busta è buona questa cosa devo io ci fa schiacchire e lo caccia lui te feri creiamo il gatto è un ingrediente terra dei soldati frattato tipo brutto quando la desideri una carta non esce quando la desideri una carta non esce è uscito Gesù è uscito Gesù è uscito Gesù a te va un po' di tanto oh bella la poscaglia è uscito una carta rara in più un ballotto retrocesso non comune un povero ballotto che fine che ha fatto fortissimo c'è una foil è un artefatto si tutte le mitiche fortissimo questa mitica bella bella comune però quanto è forte questa carta a me piace troppo diventa imbloccabile all'inizio per difensore poi diventa 5-4 poi ti fa pescare 3 carte Ancestral ci piace oh si tutte le mitiche bella che c'è scritto? eh non lo so non lo sapremo mai il finacolo secondo me non le hanno messi i teferi in questo box niente no non le hanno messe comunque è stato grossi cioè non si può lamentare è vuoto quanto come trizea ooo un primo finale terra ah 0,27 c'abbiamo le ultime eh dopo due le vetture carte io ce ne ho una ah non c'è una cosa ti è finito Massimo ok vediamo c'è Carlo Gennaro oh oh miscela in versione time spiral foil brutta e non c'è cosa sia hai di male l'occhio da tutto sei pronto? ci sa la sorpresa oh è buono è buono è buono ok si ah bolla pure bolla uno è buono grazie Massimo la cacciolata io la ho messo ricordiamo che io odio la fumetteria fortemente questa non è una fumetteria si lo metto oh terra foil che ce la ci piace bello 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 il mite si 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 ma in teoria nemmeno place walker tranne quelli assemblati eh si però grossissimo come qualità di rare di rare di artefatti oh no proprio grosso lo mi trovavo grosso oh grazie mille a tutti per la visione grazie agli amici di caserta per averci prestato spazio tempo e mano d'opera guardate come lavora quando volete a trani assumiamo e andiamo a fare una passeggiata se si ci vedremo ci vedremo grazie mille a tutti al prossimo video bella wayu ecco